Fino al 15 marzo 2024 Napoli Città della Musica, un bando, un'amministrazione di interesse per avere offerte e proposte progettuali per Napoli Città della Musica. Sono tre le linee fondamentali di indirizzo, la prima la valorizzazione della canzone napoletana, tradizione che guarda al futuro, la seconda la valorizzazione dei beni culturali attraverso la musica e la terza qualunque tipo di progetto che rispecchi quelle che sono le linee guida di Napoli Città della Musica, quindi internazionalizzazione, attenzione alla music industry ma anche attenzione all'inclusione a una città policentrica. Entro il 15 marzo per presentare tutte le proposte progettuali trovate tutte le istruzioni sul sito del comune La Pagina Cultura e sulla piattaforma di Napoli Città della Musica. È un progetto trasversale, la musica informa quasi tutte le azioni culturali del nostro comune. Dal 26 gennaio a fine febbraio Napoli Unplugged è una straordinaria rassegna di musica, in particolare al femminile, all'auditorium di Bagnoli. Giugno e luglio saranno dei veri e propri mesi della musica, fra il Maradona e Piazza Plebiscito avremo grandissimi artisti, da Renato Zero a Gioliera, a Gigi D'Alessio, a Ultimo, a Enegramaro. Tutti verranno a Napoli non solo per la straordinaria città che è Napoli ma anche per il progetto di Città della Musica e tutti quanti collaboreranno anche a sanare quella che è la povertà educativa proprio attraverso tanti progetti di Città della Musica, di inclusione e di attenzione a tutte le parti della nostra città.